Ho espresso a nome del mio gruppo e a nome dei cittadini che rappresento quella che era la considerazione generale su un provvedimento che in sostanza non è cambiato di molto, anzi di pochissimo. Quindi non vorrei riprendere discorsi già fatti allora o considerazioni fatte da numerosi colleghi adesso. Vorrei soffermarmi su quello che mi ha colpito in questa lunga estate su un teatrino della politica che si è reiterato per mesi e mesi e tra i diversi argomenti alcuni mi sono rimasti impressi in modo particolare. In questo teatrino di posizioni uno è sicuramente questo provvedimento, cioè la riforma della Costituzione e del Senato e l'altro è quello che ha riguardato e continua a riguardare le vicende di un Paese, io credo molto vicino a noi, anzi sicuramente molto vicino a noi, e cioè la Grecia. Quello che è accaduto in quest'estate, governato poco da chi dovrebbe governare entrambi i Paesi, ma in sostanza governato dalle autorità sovranazionali e dagli istituti politico-finanziali dell'Unione Europea, ha mostrato un presidente del Consiglio italiano, Renzi, che si è svelato come suggeritore del premier greco Tsipras. Lo riconosce oggi addirittura l'ex ministro Varoufakis, che ha confermato che il suo ex partito Siriza si sta trasformando nel nuovo PASOC o meglio nella versione PD targata Grecia. Che cosa è successo in quest'estate lunga e piena di tormentoni politici o pseudo politici? Che Tsipras voleva un mandato forte e quindi si è dimesso e ha portato il suo Paese di nuovo ad elezioni, che poi ha vinto. Qui in Italia, Renzi, alla ricerca di un mandato forte, che fa? Apre il mercato delle vacche. Un mercato delle vacche? Ma è questo il termine, signora Presidente? Che cosa fa in questo momento? In questo momento blocca, per esempio al Senato, il rinnovo degli uffici di Presidenza. Già più volte richiesto al Presidente Grasso da me stesso. E consente lo stesso mercato di avere oggi al PD, al Senato, un Presidente del Partito Democratico e ben due Vice Presidenti del Partito Democratico, da quando la Senatrice Lanzillotta è tornata come figlio al prodigo a casa. E con questo io ritengo che si sia completato, completata la similitudine che volevo sottolineare tra quello che è successo in Italia e quello che è successo in Grecia, lì dove il Presidente del Consiglio greco, il Premier greco, si sta pian piano trasformando nel mio grosso grasso Matteo Renzi greco. Il provvedimento in esame ha visto diverse letture, signora Presidente. Diverse letture tutte quante riconducibili a un filo conduttore. Io vorrei sottolinearne uno e mi permetto di sottolinearlo nuovo. Vorrei fare una lettura psicanalitica di questo provvedimento. Presidente, questa legislatura, la diciassettesima, sicuramente ha una caratteristica inaspettata e rivoluzionaria rispetto alle precedenti, la presenza del Movimento 5 Stelle. E all'irruzione del Movimento 5 Stelle nelle istituzioni, tutti, tutti, parti politiche, media, lobby, poteri forti, hanno reagito come si reagisce quando c'è da elaborare un lutto. E l'elaborazione del lutto in questo Parlamento e nel Paese, soprattutto in chi ha in mano le redini dell'informazione e del potere reale, si è sviluppata secondo cinque fasi, che sono proprio le cinque fasi che la psicanalisi descrive nel processo di elaborazione del lutto. La prima, quella di negazione o rifiuto, poi quella della rabbia, a seguire quella del patteggiamento, poi la depressione e infine l'accettazione del lutto stesso. E il lutto, arrivato dopo la presenza dei 5 Stelle nelle istituzioni, consiste nella consapevolezza che c'è una perdita, una fine in questo Parlamento e probabilmente nel Paese, inteso come si intendeva una volta. Ed è la fine del sistema di dominio dei partiti, innanzitutto. Ed è la fine di quello che io considero il vero combinato disposto che potrebbe portare, anzi che sta portando il Paese alla rovina, non quello che viene citato normalmente in quest'Aula. Ed è il combinato disposto di un sistema di potere che per decenni ha imposto e controllato tutto e tutti con l'azione dei media, che sono stati e continuano ad essere costantemente al servizio del sistema di potere. Questo sì che è un combinato disposto pericoloso per la democrazia. Ed è questo che ha prodotto soprattutto la fase seconda dell'elaborazione del lutto, la fase di rabbia, alla quale tutti si sono adeguati, accanendosi soprattutto con la nuova forza politica che era entrata nelle istituzioni, il Movimento 5 Stelle appunto. Mi avvio a concludere sottolineando un altro passaggio per me importante, che nel processo di elaborazione del lutto, qui in quest'Aula e nei gruppi politici, sono soprattutto i gruppi di maggioranza e soprattutto qui al Senato che si sono portati avanti, avanti anche rispetto al Presidente del Consiglio Renzi e al Governo che gli guida. Soprattutto si sono portati avanti raggiungendo addirittura la quinta fase di elaborazione del lutto, quella dell'accettazione passiva, il gruppo del Partito Democratico al Senato con il suo Presidente Zanda, il gruppo di Alleanza Popolare, entrambi con le sue punte di Diamante, proprio Zanda, la senatrice Finocchiaro o il senatore Quagliariello. Ma, mi permetto, i campioni dell'elaborazione del lutto sono i senatori della minoranza Demi, i veri protagonisti della sceneggiata estiva, i veri protagonisti del teatrino che si è sviluppato e che io non avevo dubbi come sarebbe andato a finire e come vedremo che finirà. Quelli della minoranza Demi sono ben dentro la quinta fase del processo di elaborazione del lutto, la fase di accettazione passiva. Ora, Signora Presidente, non immaginare neanche lontanamente alcuna accettazione. Né alcun tratto distintivo che possa accomunarmi a coloro che per tutta l'estate hanno promesso fuoche e fiamme e produrranno invece un piccolo parto, se non qualcosa del genere, è il mio tratto distintivo, è il tratto distintivo che mi porterà a votare contro questo provvedimento ad un anno di distanza dall'anno scorso, quando l'ho fatto da capogruppo e sono orgoglioso del gruppo Movimento 5 Stelle. E questo sì, con orgoglio, mi caratterizza come esponente di minoranza e probabilmente dell'unica minoranza veramente combattiva di questo Paese.